Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo da Masca Lucia siamo quindi nel Catanese, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti con un ventotenne del posto che è stato tratto in arresto dai carabinieri. Vediamo il servizio. I carabinieri della tenenza di Masca Lucia hanno tratto in arresto un ventotenne del posto nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ai militari in particolare erano giunti segnali che avevano attirato la loro attenzione sull'uomo il quale nonostante la sua incensoratezza sarebbe stato descritto come molto attivo nello spaccio di droga. Pertanto i carabinieri si sono recati in via Romano Colonna per effettuare una perquisizione alla quale il ventotenne dopo un iniziale momento di sbigottimento ha assistito attonito al rinvenimento da parte dei militari di circa 150 grammi di marijuana nascosti dietro un armadio nonché del necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi di stupefacente. Il ventotenne è stato quindi posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che poi ne ha convalidato l'arresto. Restiamo in tema parliamo ancora di spaccio di droga ma dal catanese ci spostiamo virtualmente nel palermitano per la precisione a Balestrate dove i carabinieri hanno beccato e tratto in arresto un pusher il quale a bordo del suo scooter trasportava cocaina e hashish. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Balestrate hanno arrestato un 31enne del posto già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un servizio alla circolazione stradale è stata l'occasione in cui i militari hanno fermato e controllato lo scooter condotto dal 31enne. L'esito della perquisizione veicolare è stato il rinvenimento di 24 dosi di cocaina e 4 di hashish nonché circa 360 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di sequestrare 20 grammi di semi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Palermo che ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito. Cambiamo argomento. A Catania i carabinieri hanno effettuato dei controlli in città effettuando sanzioni e denunce. I dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del XII Regimento Sicilia e in collaborazione con il nucleo radiomobile del comando provinciale, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa nelle zone del centro storico e in particolare del quartiere San Berillo. I carabinieri nell'ambito di tali attività, avvalendosi dell'impiego di pattuglie dinamiche, hanno effettuato numerosi controlli su strada identificando un'ottantina di persone e controllando una trentina di veicoli. Nel corso di uno dei controlli un quarantenne catanese è stato deferito all'autorità giudiziaria per ricettazione, in quanto a seguito delle verifiche effettuate sulla sua autovettura è stato trovato in possesso di attrezzature edili delle quali non è stato in grado di fornire informazioni sulla provenienza, verosimilmente trafugate presso un cantiere edile. I militari dell'arma hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 25enne catanese il quale, all'esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti marijuana che i carabinieri hanno sottoposto a sequestro. È stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza un 27enne di Acireale trovato alla guida di un'autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. Per il giovane, sottoposto all'alcol test, è risultato un tasso alcolemico superiore al consentito, pertanto è scattato il ritiro con sospensione della patente. A seguito dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri inoltre hanno rilevato diverse infrazioni, elevando sanzioni amministrative per un importo di oltre 6.000 euro. Parliamo ora di un furto commesso invece a Taormina due malviventi. Un uomo e una donna avevano rubato denaro in contanti e degli orologi di valore. Sono stati però individuati dai carabinieri e ovviamente tratti in arresto. I carabinieri della compagnia di Taormina, al termine di una meticolosa attività investigativa avviata subito dopo aver ricevuto la denuncia di un furto in appartamento di ingente valore, hanno sottoposto a fermo i presunti responsabili un uomo di origine marocchina e una donna polacca, entrambi già noti alle forze dell'ordine. In particolare la titolare di un esercizio di ristorazione del centro storico di Taormina si era presentata presso i carabinieri denunciando di aver subito un furto presso la propria abitazione, nel corso del quale le erano stati asportati denaro contante e orologi di lusso del valore di circa 20.000 euro. I carabinieri del nucleo operativo hanno subito avviato le indagini effettuando il sopralluogo presso l'abitazione per verificare le modalità con le quali i ladri avevano fatto ingresso all'interno dell'edificio e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona. Proprio dalle immagini registrate gli uomini dell'arma sono riusciti a identificare gli autori del delitto e a mettersi sulle loro tracce. In poche ore, dopo un'accurata attività di ricerca, l'uomo e la donna ritenuti responsabili dell'azione criminosa sono stati rintracciati presso una struttura ricettiva a quattro stelle di Taormina, intenti a consumare la prima colazione. I due, che di recente avevano lavorato anche alle dipendenze della vittima come camerieri e lei anche come babysitter, sono stati trovati in possesso di circa 8.000 euro in contanti e di qualche dose di cocaina e marijuana per uso personale. La donna, messa davanti all'evidenza dei fatti, ha ammesso la perpetrazione del furto in concorso con il giovane marocchino, negando inizialmente il furto degli orologi di pregio. Ciò nonostante, le ricerche della refurtiva da parte dei carabinieri sono proseguite e hanno consentito di recuperare anche i quattro orologi rubati, tra cui un Rolex e un Cartier. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di documentare le diverse fasi dell'azione criminosa, inclusa quella del sopralluogo, e di accertare che i due avevano già speso circa 3.000 euro del bottino in cena in ristoranti di lusso del comprensorio taorminese, hotel a quattro stelle e in acquisto di costosi cellulari. I due sono stati associati presso la casa circondariale di Messina Gazzi. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per l'uomo e quella dei domiciliari per la donna. Da Taormina a Trapani, per parlare invece di una rapina commessa ai danni di un'anziana, le forze dell'ordine sono però riusciti a individuare e arrestare il malvivente. Vediamo il servizio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal locale giudice per le indagini preliminari, un 24enne trapanese, presunto autore di una rapina commessa ai danni di un'anziana donna consumata nei pressi di Via del Ferro. In particolare, il giovane, nella serata del 7 novembre scorso, a bordo di una bicicletta, aveva preso di mira una coppia di anziani coniugi che camminavano sul marciapiede. Dopo averli puntati, con la bici ancora in corsa, aveva fatto rovinare a terra l'anziana signora al cospetto del marito, sottraendole nel contempo la borsa per poi darsi a precipitosa fuga. La donna, caduta violentemente a terra, aveva riportato diverse gravi fratture, tanto da dover essere ricoverata presso il locale nosocomio. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo un'accurata visione e comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona con quelle tratte dagli archivi di polizia, hanno individuato il presunto rapinatore, il quale, controllato nei giorni immediatamente successivi, era stato trovato in possesso di alcuni indumenti coincidenti con quelli indossati al momento dell'azione criminosa. Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, la locale procura della Repubblica ha formulato la richiesta del provvedimento, emesso poi dal GIP che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari. Proseguono le indagini anche nell'ottica di verificare se il giovane possa essere coinvolto in ulteriori episodi criminosi. Parliamo ancora di rapine, la notizia però in questo caso arriva da Palermo, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno sgominato una banda di rapinatori, avevano commesso dei furti in un distributore di benzina e in due supermercati. Si tratta di tre giovani malviventi, tutti i dettagli nel servizio. La Polizia di Stato ha fatto luce su tre rapine violente commesse a Palermo ai danni di un distributore di carburante e di due supermercati, utilizzando auto rubate, poi date alle fiamme e una pistola a salve. In tre seminavano il panico, sia per le modalità degli assalti durante i quali puntavano l'arma, che riproduce perfettamente una pistola vera, alla tempia delle vittime, sia con gli incendi delle auto rubate e usate per le rapine. In un caso, il veicolo dato alle fiamme ha rischiato di coinvolgere uno stabile nel rogo. La facciata, infatti, è stata annerita prima che i vigili del fuoco potessero spegnere l'incendio. Il GIP ha disposto il carcere per un 22enne e un 25enne e i domiciliari per un terzo indagato di appena 19 anni. Gli episodi contestati risalgono al 18 gennaio, al 23 e 26 agosto. La banda utilizzava sempre lo stesso modus operandi. Dopo aver rubato un'autovettura, una Fiat Panda per tutti e tre gli episodi, usando una pistola salve priva di tappo rosso, i malviventi facevano eruzione in un esercizio commerciale, scarrellando con la pistola come per inserire il colpo in canna e seminando il panico tra i clienti puntando l'arma alla tempia dei cassieri per farsi consegnare l'incasso. Subito dopo il colpo, i tre abbandonavano l'auto rubata utilizzata per compiere la rapina avvolta dalle fiamme in strada. In uno degli episodi, quello risalente allo scorso gennaio presso il distributore di carburanti, la prontezza nella fuga dei dipendenti ha lasciato la banda di soppiatto, tanto da essere costretta a fuggire senza bottino. Per gli altri due episodi invece, nel giro di tre giorni, dal 23 al 26 agosto, sono stati presi di mira due hard discount, quello di via Placido Rizzotto e quello di via Gaetano Mosca. Il bottino è stato di 500 euro nel primo e 1.500 euro nel secondo caso. Dalle indagini, infine, è emerso che la banda di rapinatori stava organizzando altri colpi con i tre malvimenti che erano pronti a reinvestire i soldi incassati dalle rapine in altre attività illegali. Un ladro è stato invece tratto in arresto a Mazzara del Vallo. Nel Trapanese si tratta di un malvivente che aveva commesso una serie di furti in abitazione, furti di automobili e anche rapine. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo hanno arrestato in ottemperanza ad un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Marsala un pregiudicato mazzarese classe 89 che con i suoi furti ha destato allarme sociale in città. Al pericoloso ladro che tra il 2021 e il 2022 aveva asseminato il panico nelle zone del mazzarese, ritenuto l'autore di una serie di furti in abitazione, di autovetture e rapine, i crebinieri nei primi giorni del mese di novembre avevano notificato la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il Tribunale di Marsala ha convalidato l'arresto operato dai militari dell'arma e ha disposto un provvedimento ancora più restrittivo rispetto a quello emesso poche settimane prima, privando il soggetto della possibilità di uscire dal domicilio dalle 19 alle 7 del giorno dopo. Da ulteriori indagini eseguite dai carabinieri di Mazzara del Vallo, l'uomo è risultato l'autore di diversi altri furti in città, tra i quali quello tentato presso un noto autolavaggio non portato a termine grazie all'arrivo dei militari che lo hanno sorpreso con le mani nel sacco. Al termine delle formalità di dito, l'uomo è stato ristretto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari. Ci spostiamo nel messinese, nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, i militari della Compagnia di Santo Stefano di Camastra supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno deferito penalmente il titolare di un cantiere edile nel comune di Acquedolci per violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. All'esito dell'attività ispettiva i carabinieri hanno accertato diverse irregolarità e pertanto a carico del responsabile della ditta sono state erogate ammende e sanzioni amministrative per complessivi 23 mila euro con la contestuale sospensione dell'attività dell'impresa. Torniamo nel Trapanese per la precisione ad Alcamo dove i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato due soggetti stranieri per lesioni personali e reingresso illegale sul territorio nazionale. Da una serie di accertamenti eseguiti i militari dell'arma hanno constatato che a seguito di una lite scaturita per futili motivi nei pressi di Piazza della Repubblica il più grande dei due, un 38enne, avrebbe aggredito colpendolo alla schiena, presumibilmente con una bottiglia di vetro rotta, il giovane di 24 anni causandogli una ferita lacero contusa. All'esito degli accertamenti eseguiti sull'identità dei due soggetti è emerso che la vittima risultava irregolare sul territorio nazionale e pertanto anche il 24enne è stato denunciato. Ci fermiamo qui, per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. A dopo. Grazie a tutti.